Oddio che testa E dal poliziesco Noir Ciao pure a te E' una serie E' una serie Beh E non ce la posso fare Da cui è stato tratto l'omonimo film con chi cazzo è Oddio Ciao Clarisse L'avete visto il promo che ho girato con Kinetoscopio Al Festival Internazionale del Filma di Roma No Che aspettate? Vi lascio il link alla fine di questo video e nell'info box Ciao ragazze Buongiorno, buonasera Benvenuti al video del lunedì Oggi sono qui per condividere con voi Una nuova scoperta cinematografica Forse sarebbe più corretto dire televisiva Ma a mio personale parere E' così ben curata visivamente Che a definirla televisiva Mi sembra quasi di sminuirla Probabilmente perché associo il televisivo ad alcuni tipi di monnezza Cioè sto a prendere gusto col genere horror E a proposito di prenderci gusto Oggi vi parlo di una serie tv horror Contaminata dallo psicotriller E dal poliziesco noir Hannibal Otto ragazzi rapite in otto diversi campus del Minnesota Mi puoi prestare la tua immaginazione? Quello che lui ha è pura empatia Non conosco questo tipo di psicopatico Non so nemmeno se è uno psicopatico Non è insensibile Non è superficiale Lui... Lui le mangia E' una serie televisiva statunitense Basata sui romanzi di Thomas Harris Il famoso scrittore del Tennessee La cui opera più celebre è il romanzo Il Silenzio degli Innocenti Da cui è stato tratto l'omonimo film Con Anthony Hopkins e Jodie Foster Ma non è l'unico libro che Harris scrive Ispirato al sadico cannibale Hannibal Lecter Difatti sette anni prima del Silenzio degli Innocenti Nel 1981 E' stato pubblicato Il Delitto della Terza Luna Conosciuto anche come Drago Rosso o Red Dragon Che nel 2002 è diventato un film diretto da Brad Sempre con Hopkins ma anche con Edward Norton E Philip Seymour Hoffman La storia narra degli eventi precedenti Alla cattura del dottor Hannibal Lecter Ed è proprio il libro Red Dragon Che è ispirata alla prima stagione di Hannibal Sviluppata per il network NBC da Brian Fuehler Trama! Will Graham è il più talentoso profiler dell'FBI Le sue grandi doti e il suo modo unico di pensare Gli permettono di entrare nella mente di un killer Come nessun altro Tuttavia tale abilità e la prolungata empatia Iniziano col passare del tempo A giocare crudelmente con l'immaginazione dell'uomo Trascinandolo sempre più vicino al baratro Alla sottile linea che divide follia e realtà Al fine di riportare equilibrio ad una mente spesso travagliata Come quella di Will Egli viene affiancato Sotto ordine dell'agente dell'FBI Jack Crawford All'illustre dottor Hannibal Lecter Ignorando come qualcosa di non meno contorto Si cieli dietro la mente del noto psichiatra Seppur in forma diversa e più malsana Due menti brillanti Avezi a studiare quelle altrui E a modo loro macchiate Iniziano così il loro gioco Hugh Dancy e Will Graham La prima volta che ho visto Hugh Dancy Era il capo redazione creativo e romantico di I Love Shopping Al fianco della deliziosa Isla Fisher Ma ha recitato anche in Black Hawk Dawn di Ridley Scott King Arthur e Savage Grace Mi sento anch'io emozionato L'attore danese Mads Mikkelsen È invece il degenerato dottor Hannibal Lecter La famografia di Mikkelsen è piuttosto lunga E se volete ammirarlo in un'interpretazione notevole Per la quale ha anche vinto un premio al Festival di Cannes Guardatevi il sospetto Film di Thomas Vinterberg Su un maestro dell'asilo Che supisce una terribile calunnia di pedofilia Non va bene questo Lawrence Fishburne è invece l'agente Jack Crawford E sfido chi non lo ricorda Per il mitico ruolo di Morpheus in Matrix Pillola rossa Resti nel paese delle meraviglie E vedrai quant'è profonda La tana del bianconiglio Hannibal è una serie che ha catturato la mia attenzione Sin dai primi promo E mi ha definitivamente stregata al primo episodio I dialoghi sono intriganti I personaggi sono solidi e tridimensionali La trama è complessa e intricata Ma ipnotica E ipnotica è anche la meravigliosa e curatissima fotografia Come ogni thriller che si rispetti Sulla maggior parte delle ambientazioni Rignano colori gelidi e spenti Ma con alcune gustose eccezioni dai colori caldi e vivaci Gli interni In modo particolare l'abitazione del dottor Lecter Hanno un'illuminazione da studio fotografico Con una luce diffusa e morbida Ma mai piatta Anzi queste ombre in luci morbide Rendono l'atmosfera più densa e rarefatta Curioso e azzeccato come ogni episodio Porti il nome di un piatto della raffinata cucina gourmet Se avete visto Red Dragon Noterete molte molte differenze tra il film e la serie tv Sia a livello di trama Sia che chiaramente di interpreti e interpretazione Nonostante molte immagini chiave Riferimenti E alcuni dialoghi che vengono ripresi Sia dal silenzio degli innocenti che da Red Dragon Anthony Hopkins e Mads Mikkelsen Non potrebbero essere più diversi Sia nell'aspetto che nell'interpretazione Trovo che lo scontro sia analogo A quello che si è verificato tra il Joker di Nicholson E quello di Ledger Imparagonabili ed entrambi grandiosi Anche se personalmente a Melanie Bollector di Mikkelsen Mi mette una cifra più angoscia di quello di Hopkins Oh mio dio Hopkins è vivace A tratti aggressivo È superbo È sfrontato E nei suoi occhi c'è il guizzo della follia Il suo aspetto è quello di un uomo basso Tarchiato Bruttino Viscido E sadico Mikkelsen è un altro mondo Il suo aspetto è quello di un uomo alto Imponente Di bell'aspetto I suoi tratti somatici sono nordici e inquietanti Ascoltandolo in originale potete anche godere del suo forte accento danese L'Anibal di Mikkelsen è un abile e suddolo manipolatore senza scrupoli La sua recitazione è gelida e minimale Eppure è così bravo da far cogliere allo spettatore ogni sfumatura Ha un autocontrollo fuori dalla norma Che viene da una notevole dose di deficit di empatia e di rimorso Emozioni nascoste, egocentrismo ed inganno In una parola, psicopatia Io trovo l'Anibal di Mikkelsen sublime Molto diversi anche i Will Graham di Norton e quello di Hughes Edward Norton innanzitutto è più adulto nell'età anagrafica Nel film interpreta un protagonista fragile ma non troppo Resta sempre un poliziotto d'esperienza E il dono dell'empatia Che invece nella serie tanto affligge e tormenta Hughes In Norton non ha una valenza così preponderante E appare più come un'abilità utile ma di cui ha il pieno controllo Tanto che nel film lo spettatore non è affatto portato A considerare questa empatia al confine con una capacità paranormale Come invece avviene nella serie Personalmente penso che Norton sia ancora oggettivamente più bravo di Dency Ma il personaggio del neato per Dency è molto più affascinante Il Will Graham della serie è giovane, è inesperto ed è terribilmente emotivo Indifeso e fragile Totalmente in balia delle pericolosissime manipolazioni di Lecter E delle forzature involontarie del suo superiore Jack Crawford Tanto da perdere il controllo di se stesso e della sua vita Ultima enorme differenza L'invadente giornalista Freddie Lowndes Che nel film è interpretato dal premio Oscar Philip Seymour Hoffman Mentre nella serie è la rossissima e riccissima Lara Jean A trasformare il giornalista in un intrigante impicciona Come sei entrata tu? Cari, a chi non l'avesse visto vi consiglio vivamente Hannibal E sono curiosissima di conoscere le impressioni di chi l'ha visto Fatemi sapere tutto Femminucce? Voi tra Hugh Dency e Mads Mikkelsen chi preferite? Dai e famo evazioni Non parti venire il pepe al culo, va bene? Non dimenticate di sbirciare sul canale di Kinetoscopio.it Quello che sto combinando a piede libero per il Festival Internazionale del Film di Roma Vi lascio tutti i link nell'info box Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti